i modi. Davvero? Non so nemmeno. Beh, no, non me lo immagino. Per esempio? Per esempio attraverso gli orecchi. Come gli orecchi? Sono una zona molto particolare, erogena, molto sensibile. Quindi il trucco è di farsi leccare l'orecchio? Non ci sarei mai arrivato. Filippo? Fatti un tiro, ti farà bene. Cos'è questa porcheria? A questo punto tanto. Tira. Dai, tira. Piano, ce la smerziamo. Ancora. Ancora un po'? Per stasera basta.